Cuore, muscoli, entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco. Ecco cosa serve per dare un'accelerazione al progetto Avanti Siena. La nostra forza sono i tanti cittadini che con il loro impegno volontario ci stanno aiutando in questo cammino verso le primarie. Oltre a regalarci il loro entusiasmo sono preziosi raccoglitori di idee e le nostre antenne sui problemi della città. C'è chi si è messo a disposizione per un volantinaggio, chi per il porta a porta, chi per rispondere al telefono e chi su internet per informare i frequentatori della rete su eventi e iniziative. Vuoi contribuire anche tu al progetto di Avanti Siena? Se hai un minuto di tempo puoi condividere le notizie di www.francocecuzzi.it su facebook o su twitter. Invitare i tuoi amici via facebook o twitter agli eventi. Telefonare a un amico e invitarlo a partecipare alle iniziative. Inviarci le tue idee a franco-francocecuzzi.it. Lasciare un commento sul sito o sulla fanpage di Avanti Siena. Se hai 5 minuti puoi parlare con un amico, fare un posto o un commento sulle nostre proposte, partecipare alle discussioni sui social. Se hai un'ora puoi partecipare direttamente a una o più iniziative, aiutarci nel porta a porta, venirci a trovare al comitato elettorale, raccogliere da amici e conoscenti proposte per Siena. Se hai più tempo puoi partecipare ai gruppi di lavoro tematici, dare una mano al comitato elettorale, organizzare un incontro o una cena con Franco Cecuzzi. Grazie per quello che potrai fare e per il tempo che ci dedicherai. Vieni a trovarci al comitato elettorale in via Montanini 28. Chiamaci al numero 0577-045500. Scrivici a franco-francocecuzzi.it, visita il sito www.francocecuzzi.it.